Dall'8 novembre le tv locali della provincia di Bari hanno cambiato frequenza. Se vuoi tornare a vederci, risintonizza il tuo televisore tramite il tasto menu del telecomando sostituendo la vecchia lista dei canali con la nuova. Telebari è sempre sul canale 12. Se continui a non vederci, chiama lo 080 501 9998.